perché il linguaggio cambiava ecco ancora oggi lavoro in radio rispetto al tempo del radio ad oggi che cosa è cambiato? è cambiato tutto siamo cambiati pure noi quindi pensa come 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 è cambiato il mondo sarebbe difficile che la televisione e la radio che rispecchiano attraverso il modo di trasmettere la realtà circostante rimanesse ferma se uno è fermo è perduto questo è l'unica natura è l'unico segreto per rimanere in pista io parlo per me ma parlo per tutti cosa diceva Charles Darwin diceva che rimarranno solo quelli che reggono il cambiamento se uno rimane fermo a se stesso è morto cosa ci puoi anticipare sul talentissimo me come si può dire qualcosa sul talentissimo me no dunque talentissimo me l'unica cosa che non va detta perché è un titolo sbagliato non è il titolo del programma è un titolo provvisorio il titolo io ce l'ho in testa ma non lo dico ancora perché ho ancora qualche dubbio non voglio confondere già sul titolo che si cominciano a dirne 4 5 alla fine è un programma molto semplice perché bisogna inventare l'acqua calda per avere il discreto successo canale 5 è la televisione come erai uno delle famiglie e quindi credo che il modo migliore per tentare di non essere affossato dagli ascolti che sono purtroppo una mannaia è quello di giocare con i bambini perché i bambini fanno parte diciamo del pubblico televisivo ma il programma non è per i bambini il programma è con i bambini grazie